Queen Island, una rubrica che si chiama Musica e C, grazie ancora a Francesco Ilfo che ci ospita nel suo bel locale e la Ballantine Band, sempre assieme a me. Per parlare questa volta, vi abbiamo spiegato negli altri incontri la band di Pupo, fanno parte della band di Pupo, le tourne con Pupo, le serate con Pupo, vorrei parlare un attimo delle vostre produzioni, perché voi avete anche dei prodotti vostri Carlo, giusto? Sì, abbiamo dei prodotti nostri, tra cui un paio che usciranno ora ad ottobre per celebrare i dieci anni di attività della band, dico un paio perché usciranno due prodotti contemporaneamente. E come mai due insieme? È proprio una scena per valorizzare le nostre due anime, quella più di intrattenimento e quella invece più autorale, quella più di brani composti e arrangiati da noi, quindi abbiamo deciso di pubblicare due CD completamente indipendenti, uno con brani originali e uno invece con i nostri riarrangiamenti di brani famosi. Roberto, al di là dei soldi ai quali sei attaccatissimo, qual è il genere musicale che ti diverte più interpretare sul palco? Quello da pub, da confusionario, quello cabarettistico oppure quello da ascolto puro? A me mi piace tutto, tutta la musica, tutti i generi, quindi sono volentieri, no no, proprio mi piace, davvero, però la musica che mi piace più di tutti è quella di Pupo, essenzialmente, con quello proprio... Questa, no, questa, no, io non lo so cosa... Scusa, Fò, si, 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 no, si va via tu, si, alla prossima, Pupo, grazie. Che fa, continuo io.